Dicevamo sempre fra di noi, non succederà ma se succede. Ho sempre detto che forse siamo stati gli unici a crederci fino in fondo. Forse non abbiamo ancora capito bene, però no, è una gioca in mezzo. Si è coronato un sogno e una grande fatica di tre anni. Io, il mister e il direttore sportivo Dolce ci abbiamo sempre creduto. Adesso detto così, sorridendo, non è molto credibile, però è la verità. Per me vincere a Como vuol dire sicuramente fare una cosa grandiosa. Quando ho visto tutta quella marea di gente che ci aveva sostenuto alla grande durante la partita a venire verso lì, è stata assolutamente una gioia incredibile. Questa qua la terrò per sempre, ma neanche il più bel finale che uno può scrivere, poteva essere così. Il momento più bello, quello che ci ha dato la consapevolezza definitiva, è stato sicuramente Benevento. Sì, conferiamo tutto. Adesso cominciamo a festeggiare. Come si fa? Non rimanere su una piazza così. Io ho un contratto qui, sto bene qui. In questo momento l'unica cosa che mi interessa è aver guadagnato la promozione. Adesso cominciamo a goderci questo momento, poi una promessa arriverà, che sia magari lo stadio o qualcos'altro, vediamo. Per scaramanzia non mi ero, naturalmente non mi ero mosso su calciatori o su situazioni perché mi sembrava poco corretto. Però la mia testa è già avvantissima, avevo già pronto un piano e un piano. Grazie. 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 Grazie.